Questo video riguarda i migliori tre tutori per caviglia. Il vincitore della qualità è la Venia Supporto per caviglia. Questo tipo di fascia caviglia esercita una pressione totale sull'articolazione della caviglia per migliorare la circolazione sanguigna e accelerare la degradazione dell'acido lattico. Progettato con il 75% di nylon e il 25% di elastan per offrire supporto e comfort superiori per la caviglia e il piede. Possono essere indossati ogni giorno per aiutarti a ottenere il supporto di cui hai bisogno. La cavigliera di sostegno è in grado di alleviare il dolore e favorire la circolazione. È sottile e può essere indossata anche con le scarpe. Grazie alla sua forma anatomica, aderirà perfettamente al piede e resterà invisibile sotto ai normali vestiti. Le calze di compressione compression, manicotto per caviglia, plantare sono studiate per il comfort di tutti i giorni e per tutta la notte per aiutarti a ottenere il supporto di cui hai bisogno. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il actesso cavigliera. Questa cavigliera sportiva per distorsione aiuta a proteggere l'articolazione della caviglia dalle lesioni che possono verificarsi durante sport quali calcio, netball, pallacanestro e corsa. Allevia il dolore e protegge la caviglia a seguito di infortuni. La natura comprimente di questo tutore per caviglia protegge l'area colpita e supporta caviglie slogate o fratturate per evitare ulteriori lesioni. Cinghie regolabili per un comfort e supporto ottimali. Le cinghie avvolgenti in materiale elastico permettono di regolare la vestibilità, applicando una compressione ottimale sull'articolazione, realizzata con un materiale elastico leggero. Questa cavigliera è traspirante e idonea per l'uso con la maggior parte di calzature e offre supporto e comfort senza intralciare sport o altre attività. Di facile misurazione, può essere indossata sul piede destro o sinistro ed è adatta sia a uomini che a donne. Il vincitore del premio è il generic cavigliera. Il design professionale e regolabile fornisce un'eccellente stabilità della caviglia. Fornisce supporto e evita distorsioni della caviglia durante ogni tipo di attività sportiva come la corsa, la palla canestro, il crossfit, tennis, box, golf, palestra. Immediato sollievo da distorsioni o lesioni della caviglia grazie a una tenuta stabile e resistente. È composto da tessuti traspiranti di alta qualità che possono assorbire rapidamente il sudore e mantenere i piedi asciutti e freschi. Taglia unica. Adatta a tutte le misure del piede di uomini e donne, sia per piede destro che sinistro. Design con un gel di silicone morbido sul lato per fornire una migliore aderenza e resistenza allo scivolamento del piede. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.